Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi di Inno Grammatico di Custonacci, è stato insignito del premio letterario La Campana di Burgio per l'impegno profuso in favore della cultura, della tradizione e della storia siciliana, con particolare il riferimento al volume edito dalla Rubettino, dal separatismo all'autonomia regionale. La manifestazione, giunta alla terza edizione, a cui è stata attribuita la medaglia del Presidente della Repubblica, si è tenuta come consuetudine presso l'antico Castello Normanno della cittadina grigentina. E passiamo allo sport, parliamo di calcio, la squadra dell'Alba Alcamo ritorna al lavoro dopo la sosta di domenica, concessa dallo staff tecnico, composto dal tecnico Mutolo, dal suo vice preparatore atletico Locicero, e dal preparatore dei portieri Mondì all'indomani dell'amichevole disputata a Castelvetrano contro la Folgore, Selinunte terminata con il risultato finale di 1 a 1, con rete di serio per i bianconeri e Licata per i locali. Una settimana importante, questa per l'Alba Alcamo, che coincide con il debutto sabato in Coppa Italia sul campo della neopromossa Cus Palermo, allenata da Marco Aprile, figlio dell'ex allenatore bianconero Lele Aprile. Prima della gara di sabato, però domani pomeriggio, la squadra disputerà un ultimo match amichevole a Casteldaccia contro la formazione locale. Un test che servirà per preparare la squadra al debutto in Coppa e per provare alcuni giovani che sono in prova. E passiamo al calcio giovanile, la Delcam riprende l'attività agonistica, in cantiere la partecipazione a diversi tornei prestigiosi, ma resta in forza l'organizzazione del torneo Costa Gaia. La scuola di calcio Adelcam Alcamo, una tra le più prestigiose d'Italia, ha ripreso in questi giorni gli allenamenti per programmare l'imminente stagione agonistica. Noi abbiamo iniziato già a partire dai primi di luglio, abbiamo fatto un camp per la Fiorentina, poi abbiamo fatto un camp ad agosto gratuitamente per tutti i bambini che volevano partecipare. E stiamo preparando intanto il gruppo 2004 che parte proprio domani per andare a fare il torneo di Città di Castello, un torneo fatto con 32 squadre, molto prestigioso, dove ci sono le società più importanti d'Italia. Iniziamo a partire dal metà settembre con l'attività ordinaria, quindi con la scuola calcio regolarmente. Abbiamo fatto un progetto nuovo che è quello che ci vede legati anche all'Alcamo Calcio, per consentire a tanti ragazzi di fare i campionati ragionali con i giovanissimi, gli allievi e la junioris, e avere quindi una possibilità in più di essere visti anche per lanciarli nei campionati di eccellenza. Ma l'autonomia dell'Adelcam resta o praticamente ora comanda l'Alba Alcamo? No, l'Alba Alcamo non comanda nessuno, nel senso che il settore giovanile lo curiamo pure noi. L'Adelcam rimane con l'associazione Costa Gaia Adelcam, che è un'associazione che abbiamo costituito nuova, dove verranno chiaramente coinvolti tutti i ragazzini fino alla categoria esordiente. Faremo regolarmente il Costa Gaia, faremo la nostra attività, ripeto, come l'abbiamo fatta sempre. L'Adelcam alleva giovani potenzialmente campioni, ce n'è uno in particolare, Francesco Cusumano, che è andato alla Roma e che in questi giorni partirà con la Roma per fare una prima importante esperienza al torneo internazionale Siria di Torino. Volevo precisare che al di là del fatto sociale, come hai detto tu, sono andati via dieci ragazzi. Cusumano è andato alla Roma, abbiamo dato Gangitano al Pescara, tre ragazzi ieri erano nella formazione della Torres di Sassari, che sono tre ragazzi del 98, altri tre sono andati al Trapani e uno è andato ieri al Palermo, che si parla di Cannavo, il ragazzo di Partinico. L'amministrazione comunale è assente, anche perché non abbiamo più né un sindaco né un'aggiunta, c'è un comune di Alcamo completamente allo sbando in tutti i settori, ci sono prospettive di poter effettuare la trentesima edizione del torneo internazionale Costa Gaia. Noi abbiamo avuto un'esperienza negativa negli ultimi anni, soprattutto, ma quest'anno in particolare, dove il sindaco Bonventre si era impegnato di pagare delle spese anche a degli albergatori che hanno finanziato delle squadre professionistiche a venire qui, così di dare un contributo anche a noi. Noi non abbiamo avuto nessun contributo, anzi abbiamo avuto delle spese che con mille difficoltà stiamo cercando di recuperare e neanche gli albergatori hanno avuto le spese pagate. Quindi io già ho un impegno con una squadra di Mosca, che già hanno fatto i biglietti per venire al nostro torneo senza quattrine. Noi non possiamo sicuramente ospitare squadre blasonate come Inter e Juventus perché hanno dei costi molto elevati. I miti e il territorio nella Sicilia dalle mille culture, l'influenza di Caravaggio e dei Fiamminghi nella pittura meridionale. Questo è il titolo della mostra inaugurata a Salemi presso il castello Normanno Svevo che si terrà fino al 25 ottobre. L'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Fiera Franca Santissimo Salvatore in collaborazione con il comune di Salemi con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dell'arte e valorizzare la cultura locale. Il progetto segue un percorso che va dal XVI al XVIII secolo con l'esposizione presso il castello di Salemi dove verranno messe in mostra alcune opere per la maggior parte inedite provenienti da collezioni private di tutta Italia. La mostra ha dato il via anche ad una serie di eventi collegati che fino al 30 agosto animeranno tutte le serate estive con spettacoli musicali, balli ed itinerari enogastronomici. E con questo appuntamento è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che queste ed altre notizie le potete trovare sul nostro sito alpauno.com Arrivederci e buon proseguimento. Arrivederci e buon proseguimento.